La grazia del Signore Lo conosco e lo amo come il mio Salvatore da 57 anni. Mi sono convertito al Signore 57 anni fa e per la sua grazia ancora oggi ho l'onore e il privilegio di portare l'annuncio dell'Evangelo a coloro che ancora non hanno il privilegio di affermare di essere certi della loro salvezza e di avere ricevuto il perdono dei peccati, la vita, la vita è eterna. Ma vi assicuro che tutte le volte che avrò la parola del Signore per annunciarla, io sento sempre un profondo, un grande peso sopra di me, una grande responsabilità. L'ha detto prima il fratello Matteo, abbiamo il privilegio, ma abbiamo anche questo carico, questo peso, questa responsabilità di annunciare il più grande, il più glorioso messaggio che il Dio ha fatto per venire agli uomini, il messaggio dell'Evangelo. Che grande parola è questa, l'Evangelo. Senza l'Evangelo saremmo nelle tenebre più fitte, senza l'Evangelo saremmo nella disperazione, perché non ci sarebbe nessuna speranza per noi, senza l'Evangelo saremmo perduti per l'eternità. Che grazie a poter riconoscere questa buona notizia di Dio per l'uomo, accettarla, prenderla nella propria vita, nella propria esistenza e ringraziare il Signore, perché attraverso di essa notizia, attraverso l'Evangelo abbiamo conosciuto Lui. E' solo questa conoscenza di Dio che disse che la luce risplendesse nelle tenebre, è Lui che ha fatto schiarire il suo splendore nei nostri cuori, affinché noi potessimo avere la conoscenza della gloria di Dio che rifugge nel volto di Gesù Cristo. Siete, può ascoltare la lettura di Essaro e prendiamo i tuoi testi. Giovanni, capitolo terzo, Evangelio, secondo Giovanni, capitolo terzo. E' un uomo importante che va dal Signore Gesù. Un dottore in Israele che va dal Signore Gesù. E il Signore Gesù dice a quest'uomo, nel sento terzo, in verità, in verità, io ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Di golevo, così si chiamava la quest'uomo, gli disse, Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta la sera di sua madre e nascere? E' un senso di voi. In verità, in verità, io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne. Quel che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliate. Se io ti ho detto, bisogna che nasciate di uomo. E poi, nasciate di uomo degli anni e capostoli. Capitolo 8, nel libro dei fatti degli apostoli. Un uomo, un etiope, un importante ministro, e la regina dei fatti di Dio ritorna a casa dopo essere stata a Gerusalemme e sul suo cargo legge un libro della Bibbia. Un testo, un libro della Bibbia. Versetto 29 E lo spirito disse a Filippo Accostati e raggiungi il codesto campo. Filippo accorse, lo dì che leggeva il profeta Esaia e disse Intenti tu le cose che leggi? Ed egli rispose E come potrai intenderle se alcuno non mi guida? E pregò Filippo che montasse e sedesse con lui. Ora, il passo della scrittura che egli leggeva era questo. Egli è stato melato all'uccisione come una pebola e come un agnello che è muto dinanzi a colui che lo tosa. Così egli non ha aperto paura. Nel suo abbassamento fu tolta via la sua condanna. Chi descriverà la sua generazione? Poiché la sua vita è stata tolta dalla terra. E l'eunuco rivolto a Filippo gli disse Di chi? Vi prego. Dice questo il profeta. Di se stesso. Oppure di un altro. E Filippo prese a parlare Cominciando da questo passo della scrittura Gli annunziò Gesù La missione letterale dice Gli evangelizzò Gesù Cioè gli portò, gli annunziò, gli fece conoscere Gli comunicò la buona notizia di Gesù Che grande annuncio è stato questo Quello che troviamo nel capitolo terzo Delle vangelo secondo Giovanni Che il Signore Gesù comunica A Nicodemo La parola La fede E l'opera miracolosa dello Spirito Santo Se noi leggessimo Non lo facciamo per verità Ma tu vuoi leggere Uno può trovarlo Questo versetto Al capitolo primo della lettera Gli effetti figli Il versetto 13 L'Apostolo Paolo dice Che in quei credenti Gli effetti Avendo udito La parola della verità L'Evangelo della salvenza Avevano creduto E dopo aver creduto Avevano ricevuto il suggero dello Spirito Santo Vedete ancora la stessa situazione Viene predicata la parola Viene udita la parola Viene creduta la parola E lo Spirito Santo Opa Suggerendo Fa nascere di nuovo E prendendo un spunto ancora Da altre affermazioni della scrittura Partezza Nel senso che immerge Nel corpo di Cristo Che è la Chiesa Colui Con lei Che ha creduto La parola E la verità Dell'Evangelo E la salvezza Dopo aver udito questa parola L'uomo che ha ascoltato Può credere o non crede Se sei legati in un terreno buono Porta frutto Se la parola viene udita Da un cuore sincero Da un cuore disponibile Per le cose di Dio Ebbene questo cuore Questa persona Col suo cuore Crede a ciò che è stato annunciato E credendo La sua fede Viene ad essere Dal Signore considerata Della sincerità Con la quale viene espressa In mezzo Attraverso il quale Questa persona Quest'uomo Questa donna È salvato E per usare Siamo salvati Per la grazia Mediante Allora interviene Allora interviene l'opera Del Signore Suggerla con lo suo spirito Che fa nascere Di nuovo Offre Al credente La posizione Di figlio L'apporto Giovanni Giovanni Di sapitolo primo Dall'Evangelo Dice che Coloro che credono Nel Signore Che lo ricevono Nel loro cuore E ricevere il Signore Significa credere Alla sua persona Alla sua persona A chiolui Che crede Ha il diritto Di diventare Figlio di Dio Non in virtù di sangue Di carno Per volontà L'uomo Ma perché Nato da Dio Ecco ancora L'espressione Che esprime L'opera Del Signore Nasce Da Dio Per diventare figli Noi che cosa abbiamo fatto Per diventare figli Dei nostri genitori E' stato necessario Che noi nascessimo Da loro Si diventa figli Così Noi non nasciamo Figli di Dio Ma possiamo diventarlo Dice il Signore La parte di Dio E c'è la parte dell'uomo La parte di Dio E' L'annuncio Della sua parola E' la sua parola stessa E' L'Evangelo E poi Il miracolo Della nuova nascita La parte dell'uomo E' la fede E' Il pentimento E' la fede Parliamo un po' Di questa parte Dell'uomo Perché è la nostra responsabilità La parte dell'uomo Abbiamo detto Che è la fede Cioè credere Alla parola Del Signore Credere All'Evangelo Gli effesivi Dopo Abbottito La parola Della verità Perché è un annuncio Di verità L'Evangelo Della salvezza Credendo Per riposare la loro fede In questo messaggio Ma che cosa consiste Facevano Facevano una separazione Di tutti i giorni Ma spiritualmente E' un'annuncio E' un'annuncio E' un'annuncio Dio Il peccato Il peccato Bisogna morire Sempre Non si può E' un'annuncio E' un'annuncio E' un'annuncio E' un'annuncio Credere Credere in Cristo Significa Che io credo Che Cristo E' morto Proprio per me Per i miei peccati Cristo E' morto Per me Al mio posto Io dovevo morire Invece di morire Io è morto Lui Questo significa Credere Perché per i miei peccati Io dovevo morire Ma se Cristo E' morto Al mio posto Per l'amore Di Dio Ha mostrato Questo di me Se io credo Questo Io sono Immesso In questo E sono Perdonato Sono salvato Credere Significa Avere fiducia In questo Non avere Nessuna fiducia In noi stessi In quello che possiamo fare Per la nostra salvezza Ma credere Che Cristo Ha conto tutto Per la nostra salvezza La grazia Di Dio E' stata offerta Perché Cristo È morto Ma la grazia Si può accettarla Si può rifiutare Si intuffiamo In questa grazia Permette Per mezzo Della fede E' la fede Che ci permette Di impossessarci Di questa grazia E la grazia Di Dio Mi permette Di la vicina perché in Cristo Gesù ogni giustizia di Dio è stata perfettamente soddisfatta. Dio si è compiaciuto dell'opera del suo figlio perché l'ha risuscitato tra i morti. Ora la parte dell'uomo è questa. Il Dio ha fatto la sua parte e vuole continuare a farla. La parte che ha fatto il Dio è questa, il dono del figlio, l'amore suo manifestato nel dono del figlio, l'opera compiuta dal figlio alla croce del talpario, il sangue spasso e l'offerta della grazia. Questa è la prima parte di Dio. A questo punto ci ha rinvito affinché l'uomo faccia la sua parte. Che cosa hai creduto? Hai creduto che Cristo è morto per te, cioè tu, per la fede, ti sei identificato in Cristo, nella sua morte. Quando è morto Lui è come se fossi morto tu. Allora testimonia questa situazione nella quale tu hai creduto, nella quale tu ti sei identificato. Cristo è morto per te, tu ti sei identificato con Lui nella sua morte. L'apostolo Paolo dice, io sono stato crocifisso con Cristo. Ma quando è stato crocifisso con Cristo, Paolo? Paolo è stato crocifisso con Cristo quando Cristo è morto, ma non ha creduto sulla mia vita madre. Allora in quel momento della sua confessione, Paolo si è identificato con Cristo nella sua morte. E' per ciò che dici io sono stato crocifisso con Cristo. E non sono più io che vivo, ma è Cristo che viva in me, la parte di Dio. La parte di Paolo è quella di avere creduto, la parte di Dio è la nuova vita. E' identificato con Cristo nella sua morte. E' identificato con Cristo nella sua risurrezione, nella sua risurrezione. Tu hai creduto questo, fratelli, sorelle? Voi fratelli, voi sorelle, avete creduto questo? Sì, l'avete creduto. Mi siete identificati con Cristo nella sua morte e nella sua risurrezione. Allora il Dio mi dice, testimoniatelo a te. E in che modo lo dovete testimoniare? Attraverso il parcheggio. Che non aggiunge nulla alla vostra salvezza, voi l'avete già la salvezza. Ma se c'è la gioiosa affermazione di avere creduto nel Signore, allora non c'è nessun impedimento. Qui non c'è nessun atto di magia, non c'è nessun atto che produco conferisto una grazia. Perché è un sacramento questo? Perché il sacramento è qualcosa che conferisce grazia. Il battesimo del atto non conferisce nessuna grazia. Avete già ricevuto la grazia? Avete già creduto nell'opera del Signore? Che è l'espressione della grazia di Dio. Allora voi potete umanezzare. E io non so quale sarà la parola, ma io forno saremo per chiedere alle persone, ai credenti, che si partezzano a Dio, la cosa principale da sapere. Se tu credi, dice Filippo, all'Ulubo, questo si è vero, è così. Voi afferderete di avere creduto. E questo è un fatto simbolo. Cioè sotto l'alba voi praticamente testimoniate di esservi identificati con Cristo nella sua morte. Se voi rimaneste sotto l'inverno dell'alba, morireste veramente. Perché l'essere immersi è un segno di morte. Ma voi avete creduto anche nel fatto che Cristo è risorto, che voi partecipate ai benefici della sua disolverzione, nella sua vita ancora più. E allora, detersione dall'alba, testimonia, che voi mi sentite come è stato con Cristo anche. E' un altro simbolico. E' un altro di ubbidienza al simbolo che voi gioiosamente volete compiere per questa mattina. E' una gioiosa ubbidienza, ma è anche un gioioso desiderio di confessare pubblicamente di avere ricevuto il Signore nella vostra vita. Ed è anche il desiderio vostro di prendere pubblicamente il figlio, di seguire il Signore, di glorificare il Dio nella vostra vita attraverso i frutti che voi porterete per Lui se vi pregge una stretta comunione con il Signore stesso. Appunto, lo che dice del Vangelo, se vuoi usare, il Signore Gesù, parla di questa comunione, porta l'esempio del fraccio che è la vita, l'espressione della comunione. il credente deve vivere così, vive solo perché è unito dal Cristo. La sua vita dipende dalla presenza di Cristo, dalla capacità di Cristo di dare vita. Questa è la vita del credente, è la vita di Cristo. Ecco perché la porta lo Paolo dice che non so come era lui che viveva, beh, era Cristo che viveva. E dice che nessun altro non nemmeno mi glorierò, se no nella croce del Signore di Gesù, per mezzo della quale io sono stato forse fisso per il mondo e il mondo non è stato forse fisso. Ecco l'impegno, ecco l'impegno. Avete creduto alla croce di Cristo? L'unica cosa nella quale potete gloriare è questa croce. Non c'è nessun banto per voi, ma questo gloriarsi della croce del Signore significa esprimere la propria felicità per quello che la croce è, per quello che la croce rappresenta. Gloriarsi del Signore significa essere felici per quello che il Signore è, per quello che Egli rappresenta per noi. ma questa croce è la crocezza alla vostra generazione da un mondo. e uno, vedendo voi, deve vedere un croce di essere. E voi, vedendo, guardate al mondo, dovete vedere il Signore di Gesù. Per mezzo della croce, io sono stato forse fisso. e uno, vedendo voi, deve vedere il Signore di Gesù. Questa è la vita del credente dalla parte del Signore di Gesù. per mezzo del nostro affetto e dei nostri sentimenti qui, che io voglio accorgare queste cose. E voglio accorgere da questo movimento dello Spirito una confessione di fede. credo anch'io nel Signore Gesù. Credo nel suo sacrificio. E ringrazio il Signore, perché mi ha dato il benedetto la verità con te. Dio, di tenere in per fare il suo bene, da fare il benedetto, di essere felici nel vostro cammino con Lui. Seguite sempre le sue orbe. Seguite le sue vedate, diciamo. Non perdetele di vista queste orbe del Signore. Andate dietro a Lui. E andando dietro a Lui, avrete sempre tanta gioia, tanta pace. Dio. 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 Dio.